Sono dentro The Cave, The Cavern, il più famoso club di Liverpool, dove si è scritta la storia della musica pop. Vedete la spitta The Beatles sul muro, ma ci sono tantissime memorabilia appesa alle pareti e ci sono delle baccheche con gli strumenti musicali usati dalle bande più famose che sono passate da qua. Incredibile, è un'emozione sentire ancora il vibe di questo posto. Vi faccio vedere la baccheca con gli strumenti usati dalla band più famosa del mondo. E naturalmente c'è l'angolo dedicato anche ai souvenir. Qua hanno suonato veramente tutti. Ci sono poster con le locandine dei Wu di Stuart. È incredibile, è un po' incredibile. Sì. 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 Sì.